In arrivo 491 milioni di euro per le 5 regioni del sud, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nel primo programma operativo nazionale PON, cofinanziato dai fondi strutturali europei interamente dedicato alla cultura. Il PON diventa da oggi operativo con l'insediamento del Comitato di Sorveglianza, ad annunciarlo il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini e il Ministro delle Infrastrutture Graziano del Rio. Nel primo programma operativo nazionale, cofinanziato dai fondi strutturali europei interamente dedicato alla cultura, tra gli altri, sono previsti interventi per il Museo Archeologico Nazionale di Melfi, per il Polo Museale del Materano e per le aree archeologiche di Grumento e Metaponto. In particolare, i fondi per i siti lucani rientrano nei 54 milioni di euro destinati ad interventi con progettazione preliminare.